e lo sapevo io lo sapevo come lo sapevo come lo sapevo che cosa sapevo lo sapevo è tornato chicco al mare chicco il ritorno d'ora in poi lo chiameremo chicco il ritorno perché è tornato il chicco mauro chicco mauro cioè io come fa come faccio a non rispondere già mi sono promesso che non vi lascio scappare niente niente quest'anno quest'anno non vi lascio scappare niente e se non fate un mercato degno tutto l'anno visto addosso tutto l'anno sarà un pirla da solo vediamo quanti mi seguono io li vedo che sono in tanti ovunque sotto tutti i post del milan sotto il canale del milan sotto il canale vostro che dovete disattivare i commenti tutto l'anno li dovete disattivare i commenti se non la smettete a chicco e io poi perché poi mi stanco anche a fare i video di protesta perché poi sembra che sono come il mio amico nati per vincere davis che saluto che vuole protestare per forza io parlerei di calcio mi piace parlare di calcio di cose belle di calciatori di calciatori di tattica di aver preso qualche giocatore buono vedi che già stamattina parlavo di pulisic no giocatore che mi piace che ragazzi non è che sto parlando che prendiamo un fenomeno infatti non è che spendiamo 70 80 milioni è un giocatore all'interno del budget quindi nel momento in cui c'è un giocatore all'interno del budget che potrebbe essere mezzo buono che non è non lo so spara un nome a caso musa chi cazzo è musa ispiratrice chi cazzo è musa chi cazzo è musa chi cazzo è sto musa musa vabbè boh non si sa chi non so chi è ignorante non sei non so chi è musa per me musa è ispiratrice basta non conosco nessun'altra musa io sarà colpa mia che non conosco questo musa cioè io posso sentire perché t'ho sentito anche se tu lo dici sotto voce veloce facendo finta che non l'hai detto queste orecchie sentono tu guarda che grossa sente tutto questo orecchio qua chicco chicco non ti lascio scappare niente cioè sapete cosa ha detto andatevelo a risentire con questo orecchio qua il vostro però ha detto mi sembra mi sembra parere mio non del milan lo spero vivamente che sia proprio immaginazione tua ma ne dubito perché di solito non spari cose a caso anzi purtroppo purtroppo non dici mai cose a caso giustamente e quindi mi preoccupo il doppio il milan ha la possibilità santi dio possibilità ho sentito di fare un'offerta per pulisic di 12 milioni cioè ha detto queste parole qua andate la dette sotto voce veloce male addette cioè abbiamo preso 80 milioni di atonali tanti soldi non si può dire di no non si può così vai detto non si può dire di no soldi 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 abbiamo ancora il budget di mercato intatto intatto quindi almeno un'altra cinquantina di milioni e sono basso e sono basso abbiamo speso 20 16 per love to chick ne avanzano 130 120 e non possiamo offrire 20 milioni per pulisic cioè da dove ti è uscita questa cosa 12 milioni per pulisic ma 12 milioni per pulisic che ma da dove ti è uscita sta roba cioè il problema che l'ha detto e quando dice le cose non parla a caso è questo che mi preoccupa cioè ma se ragazzi ma se non possiamo offrire 20 per un titolare abbiamo speso 16 per un per una prima riserva perché ragazzi love to chick deve essere la prima riserva di due titolari o volete fare tutto l'anno con love to chick fatemi capire cioè quello è il nostro titolare insieme a musa ispiratrice o a renders cioè voi volete giocare tutto l'anno con love to chick e renders o love to chick e musa barrow non è barrow cioè ne spesi 16 giusti per una per un prima per una prima riserva una ventina per pulisic potranno spendere cosa vuoi fare ovvio che poi sento dire in mira si sta interessando a tra ore quell'altro bodybuilder la va bene come riserva va bene non vorrei mica giocare con titolare tra ore cioè perché qua cioè i soldi dove sono dove sono i soldi fatemi capire soldi 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 ma dove ve li state mettendo questi soldi i soldi nostri tra l'altro perché sono tutti i soldi nostri tutti soldi nostri altro che proprietario non mette una lira e pure quelli che ha messo non li ha messi lui se li ha fatti prestare quindi non ha messo di lui ha messo solo le garanzie ma non ha messo un euro di suo non ha messo un euro gli interessi li paghiamo paghiamo tutto noi paghiamo quindi fatemi capire mi sembra che ci ha comprato invece che jerry 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 la qualunque da oggi in poi sarà jerry la qualunque basta saper firmare un assegno in bianco e compri quello che vuoi lui ha comprato il mina con un assegno in bianco perché non ha messo un euro non ha messo un euro jerry la qualunque non ha messo un euro anzi si dice che non è riuscito neanche a racimulare tutti i soldi come fa a ripagare quello la ragazzi qua è grave cioè ha detto veramente spero che sia stato un lapsus che gli è venuto un po non so un colpo di sole che fa caldo qua a milano magari è venuto un colpo di sole ma io posso e poi sento ancora parlare di leao c'è ancora che parli di leao come se fosse un acquisto giocatore nostro che tra l'altro l'ha rinnovato maldini quello che voi avete cacciato perché se non c'era maldini cu che rinnovava leao se non c'era maldini non rinnovava e infatti occhio perché l'anno prossimo se lo fai giocare con l'off 2 c che è musa che cazzo è su musa sull'off 2 c che musa quello se ne va per la città se ne va per la città ci abbiamo più di 100 milioni che cosa te le vuoi tenere per ricordo non ho capito cosa devi fare questi 100 milioni spenderemo per l'attaccante ma tanto c'è c'è morata costa 10 milioni stanno com'è che stanno facendo delle valutazioni questa è la nuova frase del mina sull'attaccante il mina sta facendo delle valutazioni poi oh non scherzate con scamacca cioè non ho detto niente sti giorni perché è una panzana non scherzate con scamacca cioè come terzo attaccante ancora ancora ma se no rimane lì scamacca cioè ci serve una prima punta non scherzare non mi dispiace scamacca come terza punta ma a te ti serve uno che fa 20 gollo oh ma poi scusami l'offerta per lukaku c'è il mina ha chiesto informazioni cosa ha chiesto cioè ha chiesto scusa scusa c'è sì ma all'interno li lo date gratis non è che ci lo date gratis anche a noi secondo me questa hanno chiesto secondo me l'ho chiesto questo e hanno pure detto lukaku ti devi pure abbassare lo stipendio ma scusa se ne va gratis sono pieno loro no e se scusa c'è ma come fai a dire 12 per Pulisic ma secondo me scherzava dai scherzava non ci voglio pensare ragazzi sono preoccupato sono molto preoccupato perché vedo vedo peggio di quella che già era una cattiva un cattivo presagio vedo peggio del cattivo presagio perché ogni tanto sai mi vengono degli spunti di ottimismo e dico vabbè prendiamo il giorgianino camada pulisic leao magari facciamo anche un tridente pulisic leao giru o un attaccante facciamo anche morata centrocampo a tre giorgianino love to chick pobega krunic altri due li prenderemo spero non musa ispiratrice la difesa ce l'abbiamo e nella mia testa dico vabbè perlomeno nelle prime quattro dovremmo arrivarci non lottiamo per lo scudetto ma qua quando sento sento ste robe c'è sempre da preoccuparmi sempre di più questi non vogliono prendere manco pulisic 12 milioni 12 iscrivetevi al canale ci sentiamo la prossima volta ciao ragazzi ciao